Andrea Ianni, Pierfranco Ianni, Silvia Visconti e Antonello Alfieri sono i quattro sbandieratori del gruppo storico Città dell'Aquila selezionati per far parte della nazionale italiana. Questa mattina il sindaco Cialente ha voluto conferire agli sbandieratori a nome dell'intera municipalità un riconoscimento. Presenti anche Gianni Ianni e il consigliere comunale Adriano Duranti assieme all'assessore Cocciante, soddisfatto il primo cittadino dell'Aquila che parla di uno dei migliori gruppi in Italia, un gruppo che ha dietro tantissimo lavoro e sacrificio. L'obiettivo da cui a qualche anno ha detto il sindaco è diventare il gruppo migliore d'Italia. È stato un lungo percorso, fortunatamente è stato premiato, sono stati selezionati da un commissario tecnico, sono stati 60 ragazzi partecipanti, loro sono rientrati in questa rosa, per loro è anche una scuola perché si possono anche esibire insieme ad altri ragazzi che hanno molta più esperienza di loro, possono anche imparare, la scuola della nazionale è grande, ci sono anche i musici e i sbandieratori. Ci vogliono ore e ore di allenamento, soprattutto molto impegno e molta passione. Noi già l'anno scorso ci siamo classificati al secondo e al terzo posto per quanto riguarda i campionati italiani Under 18. Quest'anno punteremo sicuramente ad avere un gruppo migliore e cerchiamo naturalmente di diventare il miglior gruppo d'Italia, anche se è molto difficile, c'è molto molto da lavorare. Sinceramente cerchiamo anche di trovare nuove reclude, nuovi ragazzi che si appassionino a quest'arte, anche perché gli dà la possibilità di andare in giro e soprattutto di vedere altre realtà e altri gruppi dai quali possono anche imparare nuove tecniche.